Noi vloggiamo con la GoPro Hero 5, perché non ce l'avete. Buongiorno e benvenuti a Porta 4 con le Camabelle. Buongiorno e benvenuti a tutti. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno e benvenuti a tutti. 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 Buongiorno e benvenuti. Buongiorno e benvenuti a tutti. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno e benvenuti a tutti.